ciao ragazzi apriremo il baule calciante del re ma non lo so se contiene veramente la ricetta vai aspetta ho tenuto qua vai oggi domenica è venuto già sto incominciando a fare la sfida vabbè non penso che me ne fotte attenzione ma rosa in pressa ogni volta che devo fare un video per un baule c'è sempre la tina che manca aspetta ragazzi ok 3 2 1 partiamo subito col baule io non so fare 8 carte 8 carte ok io ho 8 di oro buono sai 118 pece minchia minchia quante carte 439 schiere già 5 rare 5 150 allora c'è la legge in aria c'è la legge in aria io 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 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee piscatore odore piscatore odore! impiscatore odore! vogliamo vangiarla o no? no no cambiamo i schismi io caldo vabbè vabbè non fa niente cambiamo strega no 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 scambio un altro ma vabbè vabbè guarda guarda provarlo io a pescaturino paura del cittadino e le tueggi un bene non finisce pure io ho la stessa paura che adesso l'ho aperto l'ho aperto così facile mini peccale mello 9 mini peccale mello 9 cazzo quanto tanto fa andiamo a pescaturino pescaturino provo subito lo posso provare si ragazze adesso si chiama ciao